buongiorno a tutti sono giuseppe bonito io ho conseguito la maturità classica nell'anno 2011 2012 mi sono laureato in giurisprudenza la federico secondo attualmente sono professore diritto economia in un liceo a nocera e praticante avvocato in uno studio a salerno ho scelto il liceo classico per tanti motivi anche perché a 13 14 anni non si ha la capacità di scegliere bene una scuola io banalmente l'ho scelta perché abitavo nei pressi della scuola stessa però con il tempo ho capito che questa scuola faceva per me mi è entrata dentro e mi ha fatto capire che la cultura è qualcosa di cui bisogna nutrirsi e piano piano si capiscono le cose quindi adesso voi scegliete con la vostra testa scegliete seguendo le vostre inclinazioni ascoltate i vostri genitori ascoltate i consigli di chiunque ma scegliete voi e scegliete la scuola che fa più per voi e scegliete bene mi raccomando